Salve ragazzi, scusate la piccolissima intro ma per diciamo dirvi che è il primo video che faccio con la vermedia e quindi con anche la telecamera, tutto insieme e era mezzanotte e quindi la luce non ce n'era tanta e se vedete male scusatemi soprattutto anche l'audio come ho già detto è la prima volta che lo faccio scusatemi in anticipo se l'audio si sente male, c'è troppo forte quello del gioco e poco quello della voce comunque tranquilli, dalla prossima sistemeremo tutto vi ringrazio già per i pollici in su per sostenerci e spero vi piaccia questa nuova serie ciao ciao e ben ritrovati ragazzi, sono il vostro mini e oggi siamo qua su azura rat la nuova serie che voglio riportare sul canale, questo gioco l'ho visto in un altro video e mi appassiona tantissimo e ho voluto provarlo quindi iniziamo subito abbassiamo un attimo ok riaccomi ragazzi, ho già fatto, ho abbassato un pochino perfetto difficoltà normale proviamo sul normale comandi vabbè, salvataggio torniamo indietro e proviamo scusate dell'illuminazione, la prossima volta farò un pochino meglio comunque tanto è importante vedere il gioco per ora tanto all'inizio eh vediamo un po' come sarà nuova partita scusate il cane ma anche se che sono? è mezzanotte ho voluto iniziare così perché ero troppo boh no io direi di farla su facile godiamoci la storia non l'ho mai fatto godiamoci la storia iniziamo a giocare? si ok ragazzi come sempre nei primi episodi è per conoscere un attimo la storia perché anch'io non l'ho quante volte si salva? ma quante volte si salva? è già la terza volta che salviamo eh ok baracuda i goma sono disgustose e impure creature che infestano il pianeta per salvare la civiltà della minaccia ancestrale dei goma i semi dèi che governano il pianeta creano un'arma capace di identarli per sempre le regioni di semi dèi sono guidate da otto semi dèi aaaaaa fammi leggere e andiamo a iniziare questo gioco lui è Zura un po' muscoloso eh un pochino RAT Ristart un po' muscoloso 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 Allora lo devo distruggere così, è un po' più rapido, ho fatto un po' male, boh ragazzi bellissimo, ci ho preso un goma e l'ho lanciato contro un altro goma, boh, scusate se mi vedete male, mi ripeto, venendo in purità, ok, faccio una delle, prestondo, e spostiamo così come bufro, non temete per il guerriere di Shinkoku, non so un po' sembrava, la nostra lunga notte su di me ne va a fine questa notte, Shinkoku, demigods, purgare il nostro mondo dell'impure goma, chi è che parla? Il mantra che da una vita è comune, non è un po' sembra facile, perché se no, strada, 100% di demigods, non è un po' sembra, non è un po' sembra per il 2 4 4 4 5 5 5 6 4 Sto capendo niente. Vabbè, questi mi sa sono essi un'idea. Credo. Alla causa! Io Sperò ridurre tutto il viale con questi grandi fiori! C'è tempo per avere qualche vero! Buon lavoro per te! Potrei fare questa cosa! Non capisco chi sono loro. August. Ok. August c'è? Ho saputo bene. E adesso c'è l'altra parte. Ho già visto. Ho già rivisto come è che c'è. Lui, eh? Yash. E gli otto guerriano celesti. Vai, vai al tondo, va al tondo, va al tondo, va al tondo. Asura. Ecco, e noi siamo lui. C'è un po' che ne parei. C'è un po' che ne parei. E poi ecco. E' distrutto. Boh. E' il prossimo video. Veccia dell'universo. Non mi sapete per niente. Scusatemi ancora. La prossima volta sarà tutto diverso. Se non è l'universo. Adesso godiamoci la storia. Scusatemi ancora. Serjay, otto guerriano celeste. E' anche lui? E' un guardia? E' perché è lì? Perché non è a... a combattere? ...e che potrebbe restare un po' un po'... ...e che credo... ...e che sarei venuto a prendere un po' di più... ...Cullrow... ...dell'autocordia Celeste... ...ma non un vecchiettino... ...Olga... ...oh... ...c'è Olga... ...delle prossime domande se li conosci veramente... ...un truccino... ...che si trocca di più quando la bellezza della decisione è prima di me... ...ma mia strategia è trappata... ...e non c'è bisogno di essere all'interno... ...non bisogna stare qui... ...ebbiamo sentire... ...diali a me... ...che voi siete generati... ...è il tuo 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 tuo... ...comandante Davies... ...sendendo le rinforcazioni direttamente nelle fronte... ...che voi sanno quino... ...un problema che viene da tua... ...dell'autocordia... ...dell'autocordia... ...e che voi sanno qui... ...dell'autocordia... Il Bramastra? Il Bramastra? Ma il Comandante, non è ancora fuori trattato. Nel momento, non sarà il futuro del mondo. Non c'è il futuro del mondo. Il Bramastra. Non solo per questo, ma per il futuro. Il Bramastra è un'instrumento di distruttione. Ho capito. Il Bramastra è un'esplosione, non è un'esplosione. Non è un'esplosione. Non è un'esplosione. Il Bramastra. Il Bramastra è un'esplosione. Il Bramastra è un'esplosione. Un'esplosione. è una cozza che cavolo è? forse quello c'è il capo è incalcolabile a livello impuritato ok 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 Questa è mia, vai. Ognuno lo vuole per sé. Abbaccio tutti insieme noi. Abbaccio tutti insieme noi. Abbaccio tutti insieme noi. Abbaccio tutti insieme noi. Vai. Vai. Voi. Cmano. Voi. 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 Se l'ho presa, mi sbagliato. Ah, è sua figlia. Che sta succedendo? Lei è una sacerdotessa, quindi può darsi che gli dà più potere con la preghiera? Può darsi, eh? Asura auto seats. Concentrati, concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Non è male facile. Vai, 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 vai. Vai, Teresa. Poi, ho preso in pieno. Morto? Sta esplodendo? Boom, bitch. Poi, non è visto, è esploso. E per ora è la fascia, quindi abbiamo capito che ci sono questi goma che sono dell'impurità che i semi dèi devono depurare. Quindi devo provare il mondo da questi goma. Allora, nel mezzo, non chiedo se ho sopravvissuto. Via. Se no, va bene tutto, ma... What troubles you? I... could not kill it. No one can kill Vlittra. You should be grateful you were able to subdue it. We have suffered more casualties than ever, but it will not be back for a while. Ah, meno male. Vì, possiamoci, vì. Andiamo a riposarci. Chi è questo? Ok. Purifichiamo il goma sopra il potere del minato in celeste è invincibile. Abbiamo visto. Il tempo è vicino per cosa? Kanda 1, capitolo 1, una nuova nascita. To be continued. Vado totale, 3, battaglia. Ah, va bene. E quindi, ragazzi, scusatemi di nuovo per... Se l'audio forse era un po' troppo alto, devo ancora valutare delle cose. È la prima volta che faccio questo tipo di cose con, appunto, il capture della PlayStation 3 che abbiamo comprato, se vedete il nostro canale, l'unboxing dello scorso video. Spero vi piaccia la serie e soprattutto vi piaccia la storia di questo gioco, che a me piace tantissimo. Niente, se vi piace, come ho già detto, seguite il canale, restate sintonizzati e ci vediamo in un prossimo episodio. Da Mino, domani c'è ne è tutto, lì nello studio. Ciao ragazzi. Dai... Iscriviti al canale. Dai... Tu... Iscriviti... Hai... Mari, 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 Mari... Ciao. Tu... Iscriviti... E aspetta... Ciao.